Allora oggi nel tabellone del punteggio segniamo 8,8 che la vetustatia media è un punteggio importante perché? Perché per la prima volta stiamo al di sotto della media nazionale, quindi con gli ultimi acquisti, 90 mezzi alimentati con biometano, la media di vetustatia in sanità degli alobus di 2 è inferiore di quasi 2 anni, un anno e mezzo rispetto alla media nazionale. Oltre al discorso di rinnovo della flotta, che è uno degli elementi caratterizzanti per un'azienda di asporto pubblico locale, altro elemento è il potenziamento dell'officina, quindi la riapertura e la realizzazione con strumenti e tecnologie più innovative di una nuova carrozzeria che consentirà di migliorare anche la qualità e soprattutto la celerità delle piccole riparazioni sui mezzi che operano nell'area metropolitana.